ciao come va dopo gli argomenti che abbiamo trattato nei giorni scorsi hai fatto gli esercizi bene se continui a fare questi esercizi vedrai un bel cambiamento fammi sapere come va l'argomento di oggi è questo molte persone mi chiedono come faccio a svegliarmi al mattino con quella spinta e quell'entusiasmo che mi fa sentire veramente felice di alzarmi che mi fa sentire felice di iniziare le attività della giornata felice di vivere beh quello che è fondamentale è che tu abbia un motivo per alzarti al mattino un motivo può essere un obiettivo per la giornata può essere un obiettivo a medio lungo termine per la tua esistenza quindi il fatto di provare motivazione è proprio questo avere un motivo per essere spinti no avere una spinta interiore che ti porta ad agire e a metterti in moto che ti fa superare quell'inerzia tipica dell'essere umano che generalmente è un po comodino no nel senso che comunque una parte di pigrizia e di comodità fa proprio parte dell'essere umano questo lo puoi sperimentare quando al mattino magari hai voglia di poltrire un po piuttosto che fare qualcosa di nuovo di diverso potrebbe essere qualcosa che ti crea una resistenza piuttosto che fare cose troppo impegnative a un qualsiasi livello sia impegnativo per te per qualcuno potrebbe essere fisico per qualcun altro potrebbe essere un qualcosa di mentalmente troppo impegnativo oppure impiegare troppo tempo in una certa attività quindi la motivazione beh col fatto che mi occupo della della missione di vita di aiutare le persone a trovare la propria missione di vita quello diciamo che è una bella spinta motivazionale perché nel momento in cui tu sai il motivo per cui sei sceso qui quali sono i tuoi compiti come ho già detto in qualche video ho scoperto che non tutti abbiamo una missione di vita con la m maiuscola tutti nasciamo con uno scopo ossia tutti abbiamo uno scopo importante no per la nostra esistenza ed evoluzione per l'esistenza evoluzione della nostra anima e del tutto perché noi siamo connessi ad un tutto più grande quindi tutti noi abbiamo delle sfide delle situazioni in cui abbiamo l'opportunità di crescere di migliorare di evolverci non tutti hanno una missione di vita che è quella proprio connessa all'aiuto rivolto al prossimo ci terrei a farti notare che non esiste un un livello dove tu possa dire questo è meglio di quest'altro ossia questa persona è migliore perché ha questo tipo di percorso piuttosto che il mio che magari vedo che è più limitato o non ho quella particolar cosa che mi farebbe sentire così figo ebbene non è così perché quando tu sei sul tuo cammino e senti che stai portando avanti no le cose per cui sei venuto qui qualunque se siano sei sul cammino giusto e ti senti benedetto quindi scopri quelle che sono le tue passioni scopri quelle che sono le cose che ti rendono gioioso non solo un unico scopo anche per chi ha una missione d'aiuto che effettivamente è una cosa veramente molto motivante perché non smetteresti mai di darci dentro quando sei lì che stai portando avanti un progetto che ti fa sentire appagato tutti noi abbiamo l'opportunità di lasciare un segno su questa terra ognuno con le sue caratteristiche speciali coi suoi talenti e con la nostra specialità quindi qualunque sia il tuo scopo di essere nell'essere venuto qui hai a prescindere dei talenti speciali quindi ascoltati e sviluppali in genere li scopri perché quando li metti in atto ti diverti sei contento sei felice ti senti realizzato quando non li utilizzi è come se ti mancasse qualcosa quindi fai questa ricerca la ricerca la fai semplicemente così ascoltati durante la tua giornata vedi come vivi vedi quali sono le cose che ti piacciono magari ti piace stare all'aperto quindi le attività che ti permettono magari di realizzarti maggiormente potresti essere portato a farle all'aperto essere in contatto con la natura l'ascolto di sé è qualcosa di magico perché comunque ti aiuta oltre che a sentire quelle che sono le tue tendenze favoloso e fantastico ti aiuta anche ad acquire la tua sensibilità la tua sensibilità all'ascolto che potrebbe anche portarti all'acquire la tua sensibilità nel caso fossi predisposto questo quindi ascoltati e comincia a tirare giù tirare giù per iscritto proprio alcune delle cose che noti e vedrai che mettendo insieme i vari elementi se desidererai fare qualcosa che ti renderà le tue giornate più belle più magiche utilizzando gli elementi che vengono fuori da questa tua indagine vedrai che troverai sicuramente delle attività che ti fanno sentire bene che ti fanno sentire realizzato potrebbero anche essere delle esperienze che tu non hai mai fatto quindi potrebbero portarti a fare delle nuove esperienze quindi questa è un'ottima cosa perché questo già solo ti porta a crescere quindi fai questo bel lavoro e poi se dovessi essere una delle persone che effettivamente ha proprio una missione di aiuto nei confronti del prossimo tra queste caratteristiche potrai avere segnato l'empatia potrei aver segnato il sentirti magari responsabile per gli altri piuttosto che il sentire il piacere il desiderio di aiutare il prossimo in qualunque modo e quindi se dovessi avere delle caratteristiche che ti fanno sentire percepire o focalizzare su quella che potrebbe essere un tuo cammino connesso all'aiuto agli altri magari potresti anche far parte delle anime di amante questo non lo sappiamo ancora ovviamente intanto fai questo bellissimo lavoro che è un dono che fai a te stesso e poi ci sentiamo presto domani dopo domani non lo so vediamo ciao